Buon pomeriggio e buona settimana a voi. Allora io ho sempre pensato, e questa è la mia posizione, che sicuramente per quanto riguarda i partiti che risiedono in Parlamento uno vale l'altro, nel senso che tutti perseguono i propri interessi e nessuno, soprattutto dei leader, si alza la mattina dal proprio letto e pensa come risolvere i problemi dei cittadini, ma pensa piuttosto come mantenere le proprie poltrone e come riuscire ad avere un maggior consenso per restare in Parlamento. Su tutto il resto spesso, come abbiamo visto, sono d'accordo e quando non lo sono fanno finta di non esserlo. Diversa invece è il fatto della cultura. Ci sono due mondi che sono sicuramente molto diversi, che possiamo anche identificare da un lato con il mondo della sinistra dei comunisti e dall'altro il mondo della destra. E la cultura, lo abbiamo detto, quale importanza riveste nella crescita, nella formazione in particolare dei giovani, dei nostri figli. E quindi quando ci sono notizie come quella che è stata nominata De Fusco, direttore del Teatro di Roma, questo credo che sia una buona notizia. Tanto che abbiamo visto le reazioni da parte della sinistra e del sindaco di sinistra, Gualtieri, che ha gridato allo scandalo. Cioè come se loro, quando erano al governo, non avessero fatto esattamente la stessa cosa. Perché è risaputo, è normale, che quando tu governi cerchi di mettere nei posti che contano, nelle università, nelle società, nelle società statali e appunto anche per quanto riguarda la cultura, i tuoi uomini. Ed è ridicola la posizione di Gualtieri e anche di tutti quegli attori di sinistra che gridano allo scandalo e accusano il centrodestra di voler in questa maniera politicizzare tutto, invece di guardare alle capacità, guardare a quella che è l'esperienza dei soggetti, mette i propri uomini. Ripeto, esattamente quello che sempre ha fatto la sinistra quando era al potere e ora che è sconfitta pretende ugualmente di mantenere queste posizioni. E qui devo spezzare una lancia a favore di Giorgia Meloni che almeno per quanto riguarda il mondo culturale, per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda appunto teatri e quant'altro, piano piano sta cercando di mettere uomini vicino a quell'aria, a quella cultura e mandare a casa quelli che finora l'hanno fatta da padroni. Io credo che sia un fatto importante perché, ripeto, questo permetterà di avere un approccio diverso, questo permetterà di far sì che non ci sia un monopolio culturale come è stato negli ultimi anni, negli ultimi 20-30 anni da parte della sinistra. Quindi benvenga anche De Fusco come direttore del Teatro di Roma con buona pace di Gualtieri e dei sinistrosi. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.